Spagnoli, tedeschi, francesi ma anche tanti turisti italiani provenienti dai posti più disparati trascorrono il pomeriggio passeggiando nel centro lentamente tra monumenti, musicisti da strada, negozi aperti, bar e qualche mostra. Lecce, la Firenze del Sud, come confermano gli stessi fiorentini pieni di ammirazione, piace, i turisti la giudicano purita. Dicono che sia la Firenze del Sud, ma è vero o no? Sì, sì, invece sì, è molto bella, assomiglia nell'arte, no no, lo ricorda, è bellissima, è bellissima. Ha trovato una città pulita, come trova i servizi questa città? Ho trovato una città pulita, ci sono dei bei colori invece risplende questa città, sì, no, io ho trovato dei servizi buoni. Vie affollate grazie al clima primaverile, con un sole che dà la miglior luce possibile all'architettura barocca. Nei tre punti informativi i turisti possono prendere gratuitamente le guide sul Salento. Purtroppo non c'è orario continuato, né per quanto riguarda i punti per le informazioni, né per i monumenti. C'è ancora molta strada da fare in questo senso. Per quanto riguarda le attività commerciali, quasi tutto chiuso in mattinata, poi la sera quasi tutto aperto, soprattutto in centro. Open Days, dunque, solo per alcuni monumenti in provincia, come il Castello di Copertino. Per l'orario continuato dei monumenti leccesi c'è ancora da attendere. È una città bella, molto bella, ci stiamo trovando benissimo. Fantastica, io non ho parole perché comunque vado sempre a descrivere il magico Salento in giro per il mondo, perché è fantastico. Noi camminiamo senza respiro, infatti ho portato un bel gruppo di gente da fuori, proprio per far conoscere tutte le bellezze leccesi. Osimo. E che ve ne sembra di Lecce? Lecce mi sembra pulita. Che sogni pensa la signora invece? No, io ho avuto una buona impressione, un buon impatto appena arrivata, così ho visto la città pulita, servizi e il punto informazioni ci ha dato informazioni corrette. In inglese, siamo da Israele. Ti piace Lecce? Sì, molto, davvero. L'uomo è bello. Le persone sono bello, anche. Noi, perché le persone sono bello. Noi, voi voce. Noi, voi voce. Noi, vieni. Noi, vieni. Noi, vieni. Vieni, vieni. Vieni. Vieni.